Musica Sabato 26 giugno a Roma, per i 50 anni di Caritas Italiana, in udienza dal Papa c'era anche una piccola delegazione di Verona. Al direttore della Caritas Diocesana, Monsignor Gino Zampieri, chiediamo come mettere in atto la fantasia della carità. Seguendo le indicazioni del Papa e muovendoci guardando gli occhi del povero che abbiamo accanto, cioè quello che possiamo prendere per mano, ci stiamo accorgendo che ci sono alcune novità di povertà sulle quali ci stiamo impegnando. Una è quella relativamente alla dimensione del carcere, quella che è stata anche presentata come iniziativa della regione Triveneta, che ha portato come esempio il nostro rappresentante di Gorizia e che è quello della giustizia riparativa, cioè muoverci adesso perché il carcere non è un ambiente educativo, è il contrario. Quindi quando non serve a recuperare la persona non serve neanche a premiare la società. E quindi il recupero della persona ma anche della vittima in un contesto diverso di promozione umana è quello sullo quale ci vogliamo impegnare anche noi. E sotto questo aspetto il progetto ESOTO che per tanti anni stiamo portando avanti anche grazie alla Fondazione Cari Verona è un progetto sul quale stiamo pensando a una forma proprio di evoluzione in questa direzione. Un'altra è quella di approcciarsi al territorio, la buona parte delle gravi marginalità normalmente oggi trova risposta solo nel comune capoluogo di Verona. Ecco, trovare delle soluzioni alternative perché delle risposte organizzate magari sui territori più importanti della nostra diocesi come può essere la zona del Villa Franchese o la zona dell'Egnaghesa, ecco, trovino delle risposte organizzate anche per questo tipo di gravi marginalità in modo da suscitare una risposta delle comunità ecclesiali e anche civili è l'altro fronte sul quale ci stiamo impegnando molto proprio perché una risposta di carità sia legata al territorio, non tanto perché il territorio è una terra ma per il fatto che è la relazione di prossimità quella che fa crescere la carità. Su questo ci impegneremo molto. Sono una cinquantina i volontari dell'Emporio della Carità dell'Unità Pastorale di San Giovanni Lupatotto alla Chiesa del Buon Pastore. Accanto ai prodotti ordinati per categoria negli scaffali c'è il centro di ascolto perché proprio questa è una delle emergenze più grandi di chi arriva qui. Lo stile dei volontari Caritas sicuramente la prima cosa da prendere in considerazione è l'accoglienza perché le persone che vengono ad aiutarci sono in stato di indigenza e molte volte, anzi spessissimo, si vergognano per cui devono sentirsi accolte per poter poi fare un lavoro di apertura perché pian pianino poi le persone si aprono e raccontano la loro storia. L'ascolto è fondamentale perché senza l'ascolto non si può andare avanti assolutamente. Noi siamo lì per ascoltare, cioè quando io ad esempio le persone mi vengono a colloquio diremo davanti, io dico raccontami, io sono qua che ti ascolto. Addirittura io per mia prassi diremo non prendo appunti, faccio tutto a memoria e quando è andata via la persona scrivo perché non è bello che la persona che ti sta raccontando la sua vita con difficoltà veda dall'altra parte uno che scrive. Lo spirito dei volontari è quello di esserci, di mettersi a disposizione di chi si trova in una situazione di disagio. Il volontario della Caritas è una persona che si mette a disposizione per fare del bene, per fare qualcosa che può servire agli altri. Abbiamo una realtà di bisogno che ci circonda e pensiamo di poter fare qualcosa, ognuno nel settore che si sente più portato, nel particolare nostro riusciamo a fare qualcosa a livello di aiuto alimentare oltre che di vicinanza alle persone e di cercare di farli sentire meno soli, di essere più vicini a loro. Per quasi tutti quelli che sono presenti dà soddisfazione, dà gioia e ci fa interrogare sul senso della giustizia e delle difficoltà che le persone incontrano quotidianamente. È un servizio che diamo, noi siamo nell'ambito parrucchiale per cui a maggior ragione è molto importante testimoniare anche la carità e credo che tutti portiamo a casa qualcosa ogni volta che facciamo questo tipo di servizio. Mi fa sentire bene, mi fa sentire ancora utile anche se ho finito la mia carriera lavorativa, penso che almeno così riesco a ridare un po' delle cose belle e affortunate che ho avuto nella vita. Anzitutto non deve essere una gioia banale, nel senso che quando accosti la sofferenza, la fatica, alla difficoltà, però è la gioia che viene dalla speranza, cioè dal desiderio e anche dalla voglia proprio di poter trovare delle soluzioni perché queste fatiche possono essere trasformate in un'occasione di crescita con le risorse che abbiamo a disposizione. E tra l'altro questa speranza forse che è la cosa che fa la differenza anche in questo traguardo dei 50 anni, cioè guardare in avanti, guardando le nuove povertà e però appunto affidandoci alla fantasia della carità che cerca sempre nuove soluzioni in modo che ci sia la possibilità di non fermarsi, di non corrucciarsi, di trovare in quelle che vengono definite normalmente sfide delle opportunità per crescere. L'azione della Caritas non è solo una risposta ai bisogni immediati e concreti, ma mira a un'educazione e spinge verso una nuova autonomia affinché le persone possano incominciare una nuova vita. Abbiamo avuto vari casi di persone che sono state aiutate da noi e dopo sistemandosi economicamente hanno dato un contributo e continuano a dare un contributo qua nell'unità pastorale del centro di ascolto, diremo. Abbiamo uno che ha offerto 100 metri quadri di pittura dei locali, abbiamo uno che ci ha dato dei contatti con il mercato cortofrutticolo perché lo conosce e altri volontari che vengono a fare ex assistiti, ma assistiti anche adesso alcuni che fanno dei lavoretti in parrocchia all'emporio, al centro di ascolto, dipende. Il sistema dell'emporio fa una distribuzione responsabile all'utente in quanto non è un consegnare una borsa, ma è l'utente che sceglie un prodotto che gli dà un valore che in questo caso è stabilito dai punti, perciò lui avendo a disposizione un numero di punti che ha un limite deve scegliere i prodotti che più ne ha bisogno, che più gli convengono. Poi cerchiamo di valorizzare prodotti a buon contenuto anche alimentare, nel senso che privilegiamo la frutta e la verdura, dotando una politica di prezzi, punteggio molto bassa per questi prodotti e soprattutto il cliente si responsabilizza perché si comporta come una spesa normale. L'uomo è tutto l'uomo, ha bisogno di essere salvato tutto e noi abbiamo visto la differenza che c'è tra dare da mangiare, darlo con un sorriso e darlo facendo in modo che non si tratti solo di un mero assistenzialismo, ma anche di una promozione umana che cerca di vedere quali sono le risorse, anche Tagle ha detto che sono i poveri che donano. Noi possiamo ricevere da loro tante cose e anche il loro piccolo dono mostra questa necessità di moltiplicarsi di questi doni che possono essere dati da tutti i nostri volontari, possono dare del tempo, ci sono persone che possono dare del denaro, ci sono delle persone che danno dei beni e poi ci sono tanti cristiani che donano la loro preghiera. Grazie.